Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vede pressione atmosfere che in diminuzione sul Mediterraneo occidentale i sistemi nuvolosi atlantici cominciano a interessare le regioni centro-settentrionali e controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia e tornano infatti delle nuvole nuvole che saranno un po' più estese inizialmente sulle regioni di nord-ovest ma poi in parte raggiungeranno anche l'Alto Tireno e poi guardate, degli annuvolamenti transitano anche sulle isole maggiori ma come vedete non mancheranno anche ampie zone di sireno, insomma sostanzialmente ancora estate guardiamo le precipitazioni attese sul nostro paese, poca roba per il momento però qualche acquazzone interesserà all'estremo nord-ovest poi nel corso del pomeriggio si formeranno degli acquazzoni sull'Appennino centro-settentrionale che magari riusciranno a raggiungere anche le coste del medio adriatico quindi in definitiva ci attende una domenica sia estiva ma abbiamo detto un po' più variabile al centro-nord non lasciate di spaventare da tutte queste piogge nel senso che saranno comunque di breve durata acquazzoni brevi piovaschi principalmente all'estremo nord-ovest sull'Appennino centro-settentrionale locali sconfinamenti poi verso sera anche verso il medio adriatico e poi qualche goccia di pioggia anche in Sardegna e sulla Sicilia occidentale temperature comunque come vedete sempre estive anche oltre i 30 gradi per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie! Grazie! Grazie!